Benvenuti a un nuovo appuntamento di Contè al Cinema del Cineforo Masteria. Marco Tullio Giordana è un regista che in tutti i suoi lunghi anni di carriera ha sempre sondato l'umano in tutte le sue sfaccettature, dai cento passi alla meglio gioventù a romanzo di una strage. E lo fa ancora con La vita accanto, tratto dall'omonimo romanzo, nel quale ci porta in una Italia degli anni Ottanta nella quale una coppia attende con ansia una bambina che nasce con una macchia rossa sul viso. Questo sconvolge la madre e gli equilibri di questa famiglia in cui è anche presente una sorella più o meno ingombrante del marito e aprirà una stagione totalmente nuova per la famiglia e per chi vi è intorno. La vita accanto si avvale di grandissime interpretazioni da Paolo Bierobon a Valentina Bellé a Sonia Bergamasco a un esordiente come Beatrice Barison che interpreta la figlia del film quando è un po' più giovane ed è assoluta esordiente al cinema, presa perché sa suonare e suona veramente in questo film che ci inquieterà, ci sconvolgerà, ci darà tanto tanto da pensare com'è nel cinema di Marco Tullio Giordana. Buona visione con la vita accanto.